E' iniziato con tre pareggi il percorso del girone di ritorno delle tre squadre della nostra provincia impegnate nel campionato d'eccellenza. La Larcianese ha diviso la posta in palio con una rete per parte contro la Rignanese al termine di un match tiratissimo e assai combattuto. I Viola hanno remesso le sorti del match in parità nel finale di partita con Mordagà. Dopo aver fallito buone occasioni e colpito per due volte i legni della porta avversaria, il giovane attaccante Bugelli a pochi istanti dalla conclusione ha sfiorato addirittura il bersaglio grosso. I Viola rimangono in corsa per un posto nei play-off. Chi avrebbe potuto lanciarsi alla rincorsa della testa della classifica è la Valdinevole Montecatini che ha conteso la posta in palio alla capolista Baldaccio Bruni. I Termali, dopo il pareggio di Dac e Keb, hanno tentato il sorpasso mettendo alle corde un'avversaria forte in manovrieria che ha concluso il match in 10 unità per l'espulsione di Giusti. Il Quarraza ha conquistato un meritato pareggio a San Geminiano che la tiene attaccata alle squadre che lottano per sfuggire ai play-out.